In questa giornata particolarmente significativa per me, sotto questo profilo, che io e mio padre si sia una cosa sola. È molto significativa perché se io comincio a calcolare la mia presenza in vita, con l'entrata in vita di mio padre Luigi Amodeo, nato il 7-7 del secolo scorso, abbiamo che oggi, se calcoliamo il flusso in giorni, ossia in una superficie che sia un giorno al quadrato. Per realizzare un giorno al quadrato occorrono due giorni messi per traverso l'uno rispetto all'altro, perpendicolari tra di loro. Quando poi aggiungete a questa presenza di spazio, tutto il flusso che è di 40.000 giorni, avete il valore del numero dei giorni che esistono oggi a partire da quando è entrato in vita mio padre. In questo giorno un giorno unico, in cui c'è il flusso dell'esistenza una e trina di un essere a livello di Dio padre che vale 10 in presenza e 30 in dilattazione di questa presenza, dunque 40, quando questo 40 esiste in principio e dunque come 40.000, ed esiste proprio nel piano trasversale di un giorno al quadrato, abbiamo il flusso unitario del padre. Questo è il giorno unico che esiste oggi e in questo giorno unico che esiste oggi io desidero dirvi qualcosa di assolutamente importante che riguarda le sacre scritture e come siano da leggere e che cosa in sostanza esse rivelino. In primo luogo io desidero che tutti coloro che mi seguono abbiano la capacità di ribaltare il loro giudizio. Questo è il risultato che è il risultato che dà la calcolatrice. Ma io vi propongo un calcolo per valori unitari, senza un tempo dilatato all'infinito, con tutti i numeri che esistano e siano precisi e tutti totalmente definiti. Quando noi facciamo un calcolo e arriviamo al resto, è il caso di 10 diviso 6, che una volta che arriva al 16 ha per resto un 4 che non è divisibile per 6 e allora è portato a 40 decimi e si dividono i decimi e così via. Ma mutare un 4 in 40 decimi, se è possibile al calcolatore, non è possibile nella nostra realtà. Perché affinché un 4 si muti in 40 decimi che diventano unitari, occorre che passi questo tempo di 10. Dunque è arbitrario che si divida i resti indivisibili. Allora come bisogna considerarli? Come valori che siano tutto al contrario di come noi pensiamo. Valori non posti come resto, ma posti in principio, in principio di calcolo. Dunque quando noi eseguiamo il calcolo di 100 diviso 6 in sostanza, che cosa facciamo? Prendiamo una quantità che è quella totale, quando noi definiamo che il valore totale della presenza sia di 10 unità decime. Dunque le 10 unità decime, quando esistono nei due versi, uno avanzante nel tempo e l'altro retrocedente nel tempo, come l'azione e l'azione uguale e contraria, che coesistono secondo il terzo principio fondamentale della legge dinamica, noi abbiamo che mettere in combinazione i due 10, che sono il modulo di due vettori che hanno la stessa direzione, lo stesso modulo 10, ma due versi opposti. Uno avanza nel tempo, l'altro retrocede nel tempo. 10 per 10 combina questa energia totale nel valore 100. Dunque 100 è il valore totale cui noi possiamo riferire tutto quello che esiste quando noi lo calcoliamo in centesimi. Il calcolo del 100% che si esegue proprio quando si vuole vedere quant'è la componente di ogni cosa all'interno di una quantità totale, il calcolo percentuale è proprio questo. Si riferisce a un 100 che da parte sua è unitario perché è riferito ai suoi centesimi. 100 centesimi, ossia 100 per 100, per ogni 100, è il valore unitario. Dunque, quando noi partiamo da questo valore posto in principio, 100, ed è il principio di azione per azione uguale a contraria, quindi quello generale, totale, vale 100, è quello che Gesù Cristo disse avrete il centuplo qua giù. Ebbene, questo 100 è il valore posto in principio, ma all'interno di questo principio, vi sono altri principi ancora più basilari. Il principio del Dio 1 e Trino. Il ciclo 10 è composto da 3 diviso 3 più 3 per 3. Si fa forte dell'aspetto Trino della espansione spaziale e quindi è il ciclo elementare dell'espansione spaziale, il valore 10, perché è 3 terzi uguale 1 sommato al suo valore inverso dato da 3 per 3. 1 più 9 uguale 10 è il valore che, come vedete, pone nel 10 già un risultato che parte dal 3. Bene, quando la visione è unitaria, una e trina e dunque è espressa da quattro unità, ecco il principio da introdurre nel principio 100. È la realtà. Nel 100 esiste la realtà la quale ha quattro dimensioni. Essa si ritaglia un valore posto in principio. Immaginate una linea lunga 100 all'interno della quale ci sia un corpo che occupa 4 di quel 100. Per quanto si può muovere? Finché la punta più avanzata di quel 4 arriva a toccare il 100. Tutto il movimento possibile è 100 meno 4 uguale 96. Ebbene, considerato il principio della realtà, il valore 100 mostra un movimento che è solo e totalmente dato da 96 quantità. Queste sono realmente divise per 6 e divise per 6 danno un valore preciso, 16, senza più nulla che sia rimandato lì in un valore che non è preciso perché è un valore rimandato nel futuro di un tempo di calcolo. Dunque il computo nuovo che io vi invito a fare non è quello che parte da una quantità ed è divisa subito per un'altra. Bisogna calcolare in che contesto si opera e definito il principio del contesto in cui si opera, per esempio si opera nella realtà dello spazio e del tempo, la quale ha 4 dimensioni, ecco che quelle 4 dimensioni devono trovare spazio in principio e il movimento si riduce a 100 meno 4 a 96. E allora questo 96 diviso per tutti e sei i versi che esistono nell'esistenza dà a ciascuno un 16 preciso, netto. Capito questo? Ora vediamo come può essere impostata una creazione del mondo, ossia di questa terra d'Egitto per puro calcolo numerico. In principio dunque esiste questo 100, ma questo 100 è relativo a un valore cubico, a un padre che vale 10 in un lato ed è un padre che mentre è 1 nel lato 10 è anche trino nella sua manifestazione spaziale. Infatti è un cubo che per essere determinato nel suo volume ha bisogno del calcolo di tre lati, tanto che lato per lato per lato determina il volume. Quando il lato è sempre 10, 10 per 10 per 10 determina il volume 1000, ma la lunghezza che noi abbiamo davanti è data da 10 più 10 più 10. È un 30 in linea che è disposto su tre indirizzi, su tre direzioni diverse, perpendicolari tra di loro, a costituire i tre lati di un cubo che nel suo lato esprimono il valore 10 esprimono il valore 10 del valore unitario quando noi si calcola il tempo nella presenza di un decimo. Ebbene, quando noi partiamo dal principio 100 e introduciamo questo principio di questo cubo espresso in linea e la cui lunghezza è 30, questo cubo dentro il 100 si muove solo quanto 100 meno 30 uguale 70. 70 è il complesso del movimento. Ora, se noi all'interno di questo 70 vogliamo andare a immaginare una causa primaria e tutto il resto come effetti, noi dobbiamo immaginare che questo 70 ha un padre che è uno dei 70, mentre 69 sono tutti coloro che escono dalle cosce di questo padre. Se questo padre lo chiamiamo Giacobbe, ecco che Giacobbe ha 69 che escono dal suo sangue. Ora però vedete, la storia è sempre relativa a uno spazio posto in principio nel numero di tre. ecco allora che tra quei 69 che sono gli effetti generativi di quella causa, che noi possiamo chiamare Giacobbe, ecco che tre di quelli devono essere anteposti, ma devono essere anteposti in modo che siano nel loro insieme uno, ma anche tre. E allora ecco che nella storia sacra che vi è raccontata nel primo libro della Bibbia, si racconta che Giuseppe, uno dei figli usciti da sangue di Giacobbe, entra in Egitto e ha due figli che sono chiamati l'uno, il primo genito Manasse, il secondo Efraim. sono uno nella sua causa che poi è il padre di altri due. Sono tre. È uno solo, ma calcolando assieme agli effetti, la causa sommata agli effetti è data da tre persone. La Bibbia racconta che coloro che uscirono dalle cosce di Giacobbe, ossia fuori da questa causa che era 70 e che entrarono in Egitto, dove trovarono gli altri tre, erano 66. Che cos'è questo 66? 66 è tutta quanta l'energia. Quando? Quando noi abbiamo una presenza, una presenza che è 10 in unità su ogni verso dei sei che esistono, tanto che in ogni verso dei sei c'è un 10 a numeratore e un 1 a denominatore. C'è un 11. È l'11 che si muove, è il figlio numero 11. È proprio Giuseppe, colui che si muove. Il figlio numero 11 di Giacobbe. È stato, nel racconto, venduto agli egiziani. Comunque sia, la storia è il figlio numero 11 quello che si muove. Ebbene, questo 11 moltiplicato per tutti e sei i versi che esistono, formula un 66. Quando Max Planck, per calcolare l'energia, che è una entità che non ha bisogno di tempo per esistere, infatti se esistesse nel tempo sarebbe non energia ma massa, per poterla tuttavia calcolare, ha bisogno che essa si manifesti. E allora ecco che Max Planck fa durare l'energia per un intero secondo e come risultato ottiene che ha la dimensione esatta che dovrebbe essere al 10 elevato a meno 35, il valore unitario è 66 e poi c'è un valore decimale che è dato nelle prime tre cifre da 260. Che cos'è questo 260? È il tempo legato al nostro sistema Terra in cui posto in principio sette giorni come un insieme di movimento legato a un'intera opera divina, la quantità delle settimane in un anno intero, che è un ciclo intero, sono 52, ma la metà del ciclo, ossia solo l'avanzamento del ciclo, è dato da 26 settimane. Ecco le 26 settimane elevate a ciclo 10 diventano quel 260 che è il tempo decimale che appare nella costante di Max Planck proprio come quella evidenza del tempo del calcolo che egli stesso ha introdotto per poter misurare la quantità dell'energia. Sta di fatto che la parte intera della quantità dell'energia deriva esattamente dal figlio numero 11 da Giuseppe che si muove e muoversi da parte di Giuseppe in tutti i modi possibili in questa terra d'Egitto significa muoversi in sei versi e 6 volte 11 è 66 e tutti coloro che uscirono dalle cosce di Giacobbe 66. Così descrive il capitolo 46 nel versetto 26 di Bibbia. Ma descrive anche qualche versetto più in là che tutti coloro che entrarono in Egitto 70, i 69 come figli più il padre, ossia tutto lo spostamento del cubo a lato 10, 10 e 10 per una lunghezza 30 collocato in una lunghezza 100. Ecco il 70. Ora che cosa intanto occorre? La prima cosa che occorre è rendere uno e trino portandoli allo stesso livello. Devono essere tutti usciti dal sangue di Giacobbe. Per cui quando in Bibbia leggete che Giacobbe richiede espressamente a Giuseppe di fargli assumere nella sua persona i suoi due figli come suoi figli è perché mentre Giuseppe è uno solo egli e le sue due cause indotte da lui formano insieme una terna e deve esistere uno e trino come base dell'esistenza. Ecco dunque che esiste questo 69. 69. Che cos'è questo 69? Se noi lo riferiamo proprio al padre che esiste come dieci quando dovendo esistere in modo uno e trino esiste come un dieci una volta come tempo e poi ne esistono altri tre in virtù di dilatazione spaziale. Esistono quattro dieci. È uno solo ma esiste per quattro volte e ogni volta potenzia se stesso. È colui che è. È un dieci che è dieci, è dieci, è dieci, è dieci. Dunque è dieci per dieci, per dieci per dieci è diecimila, ovvero dieci elevato a quattro. Questo è il totale dell'unità e trinità della realtà, diecimila. Ebbene, quando noi abbiamo capito di avere a che fare con una totalità che è diecimila, ma sappiamo che le cause relative a una causa generale che ne determina altre 69 sta in queste 69 e dividiamo il valore di diecimila per 69, potremmo essere indotti in errore perché avremmo un risultato decimale con una virgola e un tempo infinito. Non è questo il modo con il quale dobbiamo operare. Noi dobbiamo porre sempre qualcosa in principio. Anche nel diecimila dobbiamo prendere e metterci qualcosa in principio. E che cosa dobbiamo porci in principio? Che cosa se non l'energia nella sua totalità quando diventa flusso? E che numero ha l'energia quando diventa flusso in linea? Beh, se è 66 in termine di volume e noi consideriamo che il flusso unitario è quello di un'area uno per uno, il che implica due dimensioni delle 66 e noi le togliamo di mezzo, quelle due dimensioni e dalle 66 ne ricaviamo le 64, eccolo tutto il movimento dell'energia. Vale 64. Dunque, nella realtà diecimila, noi dobbiamo mettere in principio proprio tutto il movimento dell'energia, ossia 64. Inserire 64 nel diecimila porta il reale movimento del sessantaquattro a non essere diecimila, ma diecimila meno 64, perché quel sessantaquattro occupa lo spazio 64 dentro quel diecimila e quel sessantaquattro di spazio occupato è posto in principio, ma non in movimento di quel principio. Il movimento di quel principio è soltanto la parte residua, quindi diecimila meno 64 diventa 9.900, adesso il calcolo non mi viene, diventa quello che diventa, 64, 36, ecco diventa 9.936. Questo è il movimento reale, tutto della energia nella sua unità, 9.936. Ora, se le parti alle quali bisogna attribuire tutto questo sono 69 e sono tutte uguali, perché i due figli di Giuseppe li abbiamo portati allo stesso livello di figli di Giacobbe. E allora abbiamo che la realtà di 9.936 divisa per 69 determina un valore valore preciso, è 144. 144 è un valore che lo vedete riproposto in Apocalisse, sono i salvati da sangue dell'agnello, ma perché? Perché è il quadrato di 12, 12 per 12 è 144. 144 è il dodicesimo valore valore della serie di Fibonacci, la quale comincia con 1, 1, 1 più 1, 2, 2 più, insomma il dodicesimo valore è 144. E vedete che a questo punto siamo arrivati a definire la quantità che spetta a ciascuno dei figli usciti dalle cosce di Giacobbe. C'è il 12 per 12, ossia tutto il tempo in mesi legato al ciclo dell'anno terrestre che si presenta come un piano spaziale costruito sui mesi. Vedete quando noi leggiamo nella Bibbia di una grande causa in un progenitore come Giacobbe che ha 12 figli e il risultato di questi 12 figli vedete è che a ciascuno poi va un 12 per 12, a ciascuno va 144 perché anche se Giacobbe ha avuto 12 figli, tutti coloro che sono usciti dalle sue cosce e sono entrati in Egitto, 66, e vi hanno trovati altri tre. 69 sono tali che ciascuno di quei 69 si prende questo quadrato dato da 12 per 12. Un sistema costruito sui 12 figli è un sistema rappresentativo dell'unità di un volume che abbia 10 come linea di flusso e in più 1 e 1 come i due lati di un piano che sia 1 per 1. Il modello 12 è un ciclo lanciato nel tempo invece quando abbiamo un ciclo che non è lanciato nel tempo ma è bloccato nel tempo diventa 10 meno 2 diventa 8 e 8 che cos'è? È il dualismo che esiste tra il positivo e il negativo elevato a base della potenza trina di Dio. Vedete quando nel sistema che è descritto in Bibbia si racconta di uomini che hanno avuto questo potere di impersonare queste cause voi potete avere dei dubbi sul fatto che il racconto sia veritiero ma non potete avere dubbi sul fatto che il racconto funzioni sia veritiero in fatto di ciò che esiste in principio e vedete tutto questo io ve l'ho detto oggi in modo assai semplice in una divisione il resto indivisibile non è un accidenti purtroppo quel valore non è divisibile per quell'altro non è così è che la realtà in quel valore che esiste deve preesistere deve essere posta in principio deve occupare un ingombro dentro quell'altra e in relazione a questo ingombro poi si muove di meno accade anche nella luce perché che cosa manca in quello spazio che è percorso realmente dalla luce manca tutto ciò che separa come valore numerico la velocità della luce dal numero 3 della dimensione della dimensione spaziale della dimensione spazio perché la dimensione spazio è il 3 dell'indice cubico quando questo 3 non appare come 3 ma come 2,99 e rotti è semplicemente perché la parte che manca si è è realmente collocata in principio e messasi in principio la prima cosa che attesta esistere in principio è la definizione unitaria di quello che è per la luce il valore unitario dell'elettromagnetismo nelle tre forme del volume della massa e delle intensità un valore che sommato come componente sommaria in indici ma combinatoria in termini di potenza basata su 10 rivela di essere la combinazione tra 10 elevato a 200.000 per quanto riguarda la presenza elettromagnetica 10 elevato a 2 per quanto riguarda il lato 1 per 1 che forma un volume poi quando 200.000 è solo il flusso del piano 1 per 1 e poi c'è 10 elevato a 7.000 che è tutta la componente del movimento quella che in bibbia si chiama l'opera totale di dio che somma all'opera compiuta tutti e sei versi la sua presenza di chi la compie uno il sabato famoso che si aggiunge ai sei giorni della settimana a formare sette giorni come un unico insieme eccolo questo unico insieme che funziona come 7.000 la massa 7 nel principio di mille e poi c'è la candela che è 540 nel ciclo dei metri il totale 207.542 sono metri che si fissano in principio in 300 milioni e quello che questo che è stato messo in principio compie come spostamento è tutto quello che realmente è misurato con la massima precisione oggi dalla scienza in termini di spazio percorso dalla luce nel tempo di un secondo tanti saluti a tutti